Sono state avviate dalla Regione Puglia attività di assistenza umanitaria, sanitaria e pediatrica per fronteggiare l'emergenza connessa al conflitto in Ucraina. Vediamo. Il Presidente Michele Emiliano ha avviato un coordinamento tra tutti gli assessorati e dipartimenti della Regione Puglia per organizzare al meglio le attività di supporto al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per far fronte all'emergenza connessa al conflitto in Ucraina. La Puglia di Chiara Emiliano ha aderito alla richiesta di assistenza umanitaria avviata dal Dipartimento Nazionale per assicurare una risposta tempestiva alle esigenze della popolazione coinvolta. Ci siamo subito attivati per inviare farmaci come dedicazioni nazionali, coinvolgendo tutte le aziende del Servizio Sanitario Regionale e le farmacie. Tutte le iniziative che adotteremo saranno sempre attuate in forte coordinamento con il livello nazionale. Nell'ambito di tale azione il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha avviato una ricognizione presso le Regioni e le province autonome finalizzata a cedere a scopo umanitario farmaci ed altro materiale sanitario inclusi in uno specifico elenco predisposto dal Ministero della Salute. La Puglia ha risposto prontamente a tale appello coinvolgendo aziende farmaceutiche che hanno effettuato in poche ore una rilevazione delle disponibilità dei prodotti cedibili tra le giacenze di magazzino a rischio di scadenza, ovvero di non utilizzo. Oltre a questo è stato anche sottoscritto un accordo tra Regione Puglia e associazioni pediatri. Sebbene non ci siano ancora previsioni su eventuali arrivi di rifugiati, la Puglia vuole essere pronta a questa eventualità. A seguito della grave emergenza umanitaria in Ucraina, dichiara l'assessore alla sanità Rocco Palese, i pediatri di libera scelta si impegnano a fornire gratuitamente assistenza ai minori provenienti dall'Ucraina in tutti gli studi convenzionati della Regione Puglia e in eventuali centri di assistenza organizzati dalla stessa Regione. Inoltre i pediatri si impegnano a diventare parte attiva nel procurare beni e generi di prima necessità, anche con l'utilizzo di fondi delle proprie associazioni, da consegnare direttamente a cittadini ospiti in difficoltà.